Non c'è niente di più rilassante di una vacanza in qualche spiaggia tropicale, sole, acqua cristallina e fine sabbia bianca, ma tra le tante incredibili spiagge sparse per il mondo ve ne sono alcune decisamente singolari, con caratteristiche davvero uniche. In questo video vi mostro 10 spiagge più insolite al mondo. Prima di cominciare ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 10. L'Algarde Benagil A Benagil, un piccolo villaggio portoghese, potete trovare una spiaggia decisamente particolare. Camminando sulle scogliere di questa località potreste sentire un particolare frastuono delle onde senza però comprendere da dove provenga il suono. Solo avvicinandosi a questo grande buco si potrà vedere la meravigliosa spiaggia nascosta al suo interno. L'Algarde Benagil è una grotta creata sì naturalmente per effetto dell'erosione delle maree. Al suo interno si è formata una delle spiagge più affascinanti al mondo, dove è possibile accedere solamente dal mare sfidando le onde. Numero 9. La Laguna di Jokulsarlon L'Islanda è un'isola vulcanica situata nel nord dell'Atlantico. Vista la sua natura, molte spiagge del paese hanno il colore nero della roccia d'origine. Ma tra tutte queste particolari location, certamente la più suggestiva è la Laguna Glaciale di Jokulsarlon, dove le sabbie nere sono decorate da blocchi di ghiaccio chiari come il diamante. Questo luogo è piuttosto giovane, considerato che si formò solo a metà degli anni 30 con il progressivo scioglimento del ghiacciaio che lo sovrastava, dal quale si staccano continuamente questi caratteristici pezzi di ghiaccio che finiscono sulla spiaggia. Numero 8. La spiaggia d'acqua calda Sulla penisola di Coromandel, in Nuova Zelanda, si trova questa fantastica spiaggia d'acqua calda, dove le persone si possono costruire in totale autonomia degli jacuzzi di sabbia. Infatti, quando l'acqua del mare si ritira per effetto della marea, dalla sabbia filtra acqua termale trasportata da un fiume sotterraneo riscaldato dal calore geotermico. Circa 700.000 turisti ogni anno visitano questo luogo, dove è possibile affittare apposite pale per scavarsi piccole piscine e godersi un piacevole bagno termale fino al ritorno dell'alta marea. Numero 7. La spiaggia delle uova di drago Vedendo le immagini avrete già capito la cosa dipende il nome di questa incredibile spiaggia della Nuova Zelanda. Situato tra Moeraki e Hampton, il luogo è caratterizzato dalla presenza di giganteschi massi sferici formatisi circa 60 milioni di anni fa da concentrazione di fango, argilla e calcite. Questi massi sono pieni di crepe irregolari che possono aprirsi dando ai macigni l'aspetto di grosse uova da cova. La maggior parte di queste rocce ha un diametro compreso tra 1,5 e 2,2 metri. Numero 6. La spiaggia di Gulpeyuri Solitamente le spiagge si trovano adiacenti al mare, ma questo non vale per quella di Gulpeyuri situata nel nord della Spagna, che è separata da alte rocce e scogliere a circa 100 metri dal mare. Durante l'alta marea la sabbia di questo posto rimane nascosta in quanto coperta dall'acqua. Il mare riesce a raggiungere questa piccola baia grazie ad una serie di caverne e canali formatisi tra le rocce che collegano Gulpeyuri al mare. La spiaggia è considerata ad alcuni la più piccola al mondo. Numero 5. La spiaggia di Chandipur A Chandipur in India due volte al giorno con la bassa marea il mare scomparre completamente. La causa è il fondale insolitamente piatto che giunge fino alla riva e che con la bassa marea porta al mare a ritirarsi fino a 5 km, esponendo il fondale ricco di animali come granchi rossi. L'enorme distesa di sabbia che rimane è utilizzata dalla gente del posto e dai turisti per passeggiate, gite in bicicletta e persino viaggi in auto fino all'oceano ormai lontano. L'importante è conoscere attentamente i tempi della marea, altrimenti ci si potrebbe trovare improvvisamente a 5 km in mare aperto. Numero 4. La spiaggia di Conchiglie La particolarità di Shell Beach che si trova a Shark Bay nell'Australia occidentale sta nella sua costa di circa 60 km completamente ricoperta da uno strato di 10 metri di conchiglie, accumulatosi nella zona nel corso dei secoli. In passato la gente del posto utilizzava questi gusci per trasformarli in materiali da costruzione, cosa non più possibile considerato che la spiaggia oggi è divenuta sito patrimonio mondiale dell'umanità e pertanto importante attrazione turistica. L'area ha anche un'acqua incredibilmente salata che rende più semplice il galleggiamento. Numero 3. Glass Beach Glass Beach in California è una delle spiagge più strane al mondo, considerato che la sua sabbia colorata è formata da migliaia di pezzetti di vetro. La formazione di questo luogo unico è dovuta al fatto che all'inizio del secolo scorso sulla spiaggia venne aperta una discarica. Per decenni le comunità locali hanno scaricato in quest'area ogni genere di rifiuto, persino automobili. Mentre quegli organici si disperdevano ed i metalli venivano portati via, i vetri rotti rimanevano sull'arenile per poi essere levigati dalle onde. La spiaggia ora è un luogo protetto ed il particolare vetro non può essere portato via dai visitatori. Numero 2. Le spiagge di cacca tropicale Quasi tutte le persone amano le spiagge tropicali con quella finissima sabbia bianca, ma la maggior parte di esse non sanno che in realtà questa sabbia tropicale è il prodotto corporale di un animale che abita queste zone, il pesce pappagallo. L'animale che può raggiungere i 55 kg si nutre di alghe e piccoli molluschi nelle barriere coralline raschiando le rocce dei fondali. Con i denti tritura tutto ciò che ingerisce per poi dopo qualche ora espellere la sabbiolina fine che grazie alle onde viene trasportata fino alla riva. Un pesce pappagallo si stima che produca circa 100 kg di sabbia ogni anno. Numeri che si è moltiplicati per migliaia di pesci e migliaia di anni ci permettono di ottenere quelle meravigliose spiagge bianche molto ambite. Numero 1 Mosquito Bay Di giorno la Mosquito Bay a Porto Rico ha un aspetto normalissimo ma durante la notte la sua caratteristica la trasforma in una delle spiagge più affascinanti al mondo. A provocare questo incredibile effetto bioluminescente sono alcuni organismi come le alghe che producono la loro luce quando vengono disturbate. Camminare su una spiaggia coperta di queste alghe può lasciare dietro di sé una scia di orme bioluminescenti. Questa reazione è un sistema di difesa naturale che si è sviluppato per proteggersi da piccoli predatori che si nutrono dell'organismo vegetale. Lo scopo della luce è quello di spaventare ed allontanare i predatori attirando pesci più grossi che si nutrono di essi. Conoscevate queste incredibili spiagge? Quale vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Lascia un like se il video ti è piaciuto, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione. Grazie a tutti.